Francesco, benvenuto a Parma, finalmente i tifosi ti possono vedere e ti abbiamo qui. Grazie a tutti, sono felicissimo di essere qui, non vedevo l'ora di raggiungere i miei compagni e sono veramente carico per questa nuova avventura. Ci racconti questi primi momenti che stai vivendo a Collecchio, con i tuoi compagni di squadra, se ti hanno detto qualcosa, insomma, come stai vivendo queste prime ore da nuovo calciatore crociato? Allora, tutti i miei compagni mi hanno accolto molto bene, ho trovato un gruppo unito e mi ha colpito molto tutta l'organizzazione che c'è in questa società e siamo pronti tutti quanti a fare qualcosa di davvero importante. Di te si parlava già da un po' di giorni, quanta voglia hai di Parma? Ho tanta voglia sia di Parma che di campo, perché ultimamente mi è mancato un po' e adesso è arrivato il momento di dimostrare il mio valore e insieme ai miei compagni, insieme al mister, faremo vedere quello che sappiamo fare. E rifermo da un po' per un intervento, insomma, un infortunio. Che cosa ti aspetti tu da questa nuova esperienza a livello personale? Sì, arrivo dall'infortunio che mi ha formato molto anche a livello caratteriale. Sono stati momenti difficili, adesso però finalmente sto bene, mi sono ripreso del tutto e non vedo l'ora di scendere in campo e di far vedere quanto valgo. Venerdì c'è una partita importante, si gioca contro il Frosinone, per te una partita da ex? Sì, conosco molte persone di Frosinone, conosco anche il mister grosso perché l'ho avuto nella primavera della Juventus e so come lavora e sarà una partita dura, tosta, ma ci faremo trovare pronti. Parliamo del campionato, mai come quest'anno è un campionato equilibrato con tantissime squadre che possono davvero lottare per il vertice, cosa ne pensi? Sì, è un campionato molto equilibrato dove ci sono tante squadre che possono ambire alla Serie A e noi ci dobbiamo far trovare pronti già da venerdì. Il Parma ha un progetto ambizioso e tanta voglia di risalire, possiamo già cominciare da venerdì? Sì, come ho già detto già da venerdì sarà un grosso tassello da mettere al nostro campionato e ci dovremo far trovare pronti perché sarà dura e partita dopo partita faremo vedere quello che sappiamo fare.